ecco qua le bambole di alcuni episodi della serie abbiamo Through the Woods che ho preso Cacupit che come vi ho detto prima è una delle mie bambole preferite e quindi spesso compro la sua bambola in varie versioni e era veramente stupenda con il suo canocchiale a forma di cuore di cuori, sì, vabbè, era veramente molto bella anche la lanterna, cioè era fantastica insomma non potevo non prenderla ma penso che questa sia la bambola che adoro di più in assoluto di tutta la mia collezione però, cioè, le adoro praticamente tutte quindi è difficile dire qual è la mia preferita di bambola che ho però direi che questa è sicuramente al primo posto ed è Blondie Locks versione Just Sweet che purtroppo era un'esclusiva di Target ora non mi ricordo più comunque era un'esclusiva americana e ho fatto un macello per riuscire ad averla ma la dovevo per forza avere perché è favolosa è veramente bellissima io la adoro è stupenda prima di tutto perché vabbè, Blondie come personaggio proprio come personaggio disegnato mi piace da impazzire poi aveva questa sorta di mesh color pastello, rosa, azzurrino che mi facevano veramente impazzire e poi questo outfit stile cupcake insomma trovavo bellissimo anche il suo vestito perché è molto lolitoso diciamo e anche le scarpe sono un capolavoro cioè guardate cupcake comunque viene anche un po' fame con questa bambola però e niente quindi questa è di sicuro una delle mie preferite ma anche Cacubit Heartstruck non scherza anche questa purtroppo è un'esclusiva americana non mi ricordo più se è di Toys R Us o vabbè insomma è americana e via e è stupenda oddio è stupenda cioè queste ah prima di tutto scusate la confezione è a forma di è a forma di cuore ed è bellissima ed è proprio hot cioè vabbè e poi la sua pettinatura era meravigliosa ma stavo parlando delle ali shame on me ha queste ali immense tutte perlate con i fiori decorati sopra poi ha questo outfit tutto floreale e anche le scarpe come al solito sono fantastiche insomma anche questa bambola qui nonostante fosse un'esclusiva americana non potevo farmela scappare perché come vi avevo già detto prima cerco di prendere le bambole che mi piacciono di più che magari sono anche appunto delle esclusive che sono molto molto particolari cioè queste due sono le mie bambole preferite della mia collezione passiamo ai film delle ever after high allora eccoci qua con le ultime bambole che vi volevo far vedere che sono quelle riguardanti i film delle ever after high partiamo da Holly O'Hare del film spring and sprung che cola qua in tutta la sua belta e non so se l'ho detto prima no forse sì forse no non lo so allora la gemella Holly O'Hare è quella che mi piace di più probabilmente perché ha i capelli lunghi fino al sedere e io cioè io vado pazza per i capelli lunghi accidenti a me che me li sono tagliati va bene a parte questo sfogo personale che non c'entra una mezza e avevo visto la foto di stock di Holly O'Hare versione spring and sprung ed era quella che mi faceva impazzire di più perché ha un outfit stupendo ha capelli stupendi tutto stupendo c'è anche un anello stupendo che non mi entra nel detto perché sono troppo grande e comunque quindi ho preso assolutamente lei per per quanto riguarda il film spring and sprung mi sarebbe piaciuto prendere Kitty Sheshire di questa di questa serie ma essendo un'esclusiva americana ci sono sempre un sacco di problemi per prendere l'esclusiva americana per farla arrivare in Italia e quindi ho detto whatever insomma e quindi non l'ho presa e ho solo Holly O'Hare allora qui crolla tutto crolla il mondo abbiamo Kitty Sheshire del Way to Wonderland che me l'ha regalata proprio questo questo cioè il giorno del mio compleanno di quest'anno una mia amica perché avevo delle priorità da acquistare e da recensire quindi non l'avevo ancora presa e quindi la mia amica grandissima che ti vaglia bene ciao Sol non penso che guarderà questo video ma va a pazienza me l'ha regalata e quindi sono stata molto felice perché volevo assolutamente avere una bambola del film Way to Wonderland e Kitty dice Shire in questo in questo insomma questo io continuo a dire outfit ma è sempre appunto un outfit outfit è stupenda e e anche la confezione è stupenda con questo orologio con con la Ikea ahhh cado ok insomma è stupenda 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 tutto stupendo e passiamo alle ultime assolutamente esclusive nuovissime bambole dell'ultimissimo film Dragon Games che è uscito da pochissimo su Netflix ho preso la la mamma di Raven versione teenager appunto Teenage Evil Queen che è una special edition doll e è stupenda semplicemente stupenda e ha un outfit meraviglioso che richiama sempre tutte le cose dello specchio rotto da cui è uscita e è molto particolareggiata e dettagliata e quindi apprezzo sempre che le bambole dei film le facciano leggermente più accurate e dettagliate rispetto a quelle basic cosa che dispiace un po' però pace e non potevo non prendere queste cutie che sono le forest pixies questa è Harlow perché è un conigliettino e io adoro i conigliettini ed è adorabile e penso che loro due le recensirò presto perché ho visto che la scatola non è niente di particolare riesco a toglierle dalla confezione quindi le recensirò per voi e poi ho preso anche Dirla perché è super carina anche lei poi ha queste corna da 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 cerbiato penso che sia un cerbiato sì scusate per la mia ignoranza sempre dei momenti di emozione profonda è molto carina poi ha le sue lentiggini da deer appunto ed è troppo 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 carina e queste sono tutte le mie ever after eye ora cerco di farvi vedere velocissimamente le monster eye anche perché sono solo due e spero che questo video non sia lungo un chilometro e aprò poco eccoci qua con le uniche due monster eye che possiedo una è laguna blu a cui avevo comprato a parte l'outfit che non mi ricordo se avesse un nome perché scusatemi ma io sono più informata sulle ever after eye e però è custom custom costumizzata penso che si dica così perdonatemi se ho detto una castroneria perché sinceramente il suo viso normale non mi convinceva molto lo trovavo troppo duro troppo marcato e quindi c'era questa ragazza che l'ha ridipinta e quindi l'ho acquistata con questo viso leggermente più dolce che mi convinceva di più poi le ho prese il suo bel vestitino che mi piaceva molto e quindi questa è la mia l'unica mia laguna blu e poi ora la borsa gliela stacco perché se no casca sperando che no non ci starà più avevo trovato un punto meraviglioso grande e poi il mio ultimissimo acquisto è Catherine the Mew della Scariest City of Frights perché io ammetto che Catherine è una delle mie mostre high preferite una delle poche che mi convinca veramente perché probabilmente il motivo è perché è un gatto semplicemente solo per quello perché io sono una patita dei gatti quindi ed è quindi quella che volevo assolutamente comprare ovviamente perché se non becco tutte le esclusive non sono felice quindi quelle più difficili da reperire anche Catherine the Mew Scaries è un'esclusiva americana e quindi l'ho comprata su ebay e ho fatto una fatica a trovarla a un prezzo decente e penso che anche questa ve la recensirò presto anche se ho temo che la toglierò leggermente dalla scatola non la smonterò tutta perché ho appena arrivata alla scatola ho detto oddio ma è bellissima vabbè come al solito scusate se sono una collezionista pignola e rompi scatole va bene direi che dopo tre ore ce l'abbiamo fatta vi ho fatto vedere tutta la mia collezione di ever after eye e anche le uniche monster eye che possiedo spero che vi sia piaciuto questo video e penso che questa sarà un po' la settimana delle ever after eye e monster eye quindi penso che recensirò le forest pixies che vi ho fatto vedere prima e questa qui questa settimana se ce la faccio e poi ripartiamo con tutte le altre recensioni che devo fare c'è tanta roba va bene amici amice no cosa sto dicendo non lo so va bene mi saluto non saprei che altro dirvi mi sto impappinando scusate non saprei che altro dirvi se non stay kawaii che altro